Pazza, che fai imparato? Buccherati tu per terra Vieni Di più, di più Signore e signori, ecco a voi l'ultra-turbo Ho pensato di prendere quel puntino e di metterlo su uno di quegli scatogliati E quindi? E quindi lasciamo qui il nostro aspiratore peperotto e ne portiamo a casa un nuovo Ma sei pronto? Sshh, e le carne? Chi se ne crede? Buccherati Buccherati Che dici, andiamo? Ah, arrivo Guardi, mi è appena venuto in mente che ho preso un diploma alla scuola di Ira, di Lettra E quindi ci penso da sola alla stirapolvere, grazie Un momento, voi due Al diavolo il contratto Non vi funziona il vostro aspirapolvere, è giusto che lo cambiate con uno o no E poi sai che le dico, lei signora, veramente tutte le cose in regola, le carte in regola per usufruire del diritto di recesso Non esiste, non esiste Non esiste, non esiste Non esiste, deve essere cambiato Non si potrebbe, è contro le regole Però, al diavolo, un po' di cortesia non può che far bene al nostro paese Prego Grazie a tutti